Musica Sentiamo un po' di musica ragazzi E tra poco parleremo di Di Dalia Musica 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 Ve lo dico subito Questa per me è una diretta molto difficile Musica 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 Questa è Jennifer La canzone di Fatta dei Goblin Di opera Scusate di fenomena Pardon scusate Probabilmente mi sbaglio Parche volte oggi Ahimè Era una diretta che non avrei mai voluto fare E adesso vi spiego anche perché le mie lacrime Perché Così capirete meglio Un po' di cose E allora andiamo a chiudere questa 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 musica Allora Oggi come ben sapete è morta Daria Nicolodi Chi era Daria Nicolodi? Molti la stanno ricordando Ultimamente In questi ultimi minuti Soprattutto come L'ex compagna di Daria Argento L'agenda Brizzi di Profondo Rosso La mamma di Asia Argento Sì Sì certo per carità È tutto È tutto questo Daria Però Daria Daria Nicolodi è Innanzitutto una grandissima artista Che era già famosa Aveva già calcato I palchi E non solo Ancora prima di conoscere Dario Quindi Daria Nicolodi Era Una grande artista Già da prima Tant'è E qui vi do subito Una chicca Una curiosità Che quando fu presa Per Profondo Rosso E c'è quella famosa scena Nel teatro Dove Daria Fa La battuta Verso Uno degli psichiatri Che Non capiva bene Cosa aveva detto Gianna Brizzi No? Lei fa Ho detto No? Fa quella scena Bene Pensate che Dario Argento Gliela fece ripetere Quella scena Per ben 17 volte Raccontò lei Sì Però avete capito bene Per 17 volte La motivazione Non è che non andava bene Era che Dario Argento Era venuto a sapere Che lei Era una che si montava la testa Faceva un po' la granditiva Cosa tra l'altro Non vera E quindi Dario Argento La volle mettere La Vole Insomma L'ha messa alla prova Ok? E quindi Naturalmente Perché pensava Che se la tirava troppo Invece non era così Quindi gli feci ripetere Quella scena Che sono veramente Due battute 17 volte E quindi Questa è la prima curiosità Per quanto riguarda Dario Nicolodi Dario Nicolodi Io oggi Lo ricordavo in un video Era veramente Una grande artista E perché Non era solamente attrice Lo sapete tutti Era anche Autrice Era 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 Sceneggiatrice E devo dire Anzi Diciamocela tutta Che Dario Nicolodi Rivendica Fortemente Di aver dato Una Una mano A Dario Argento Ad esempio Per Portarlo Dalla Dai film Thriller Quelli classici Come può essere L'Ucciolo della Biume di Cristalla Al mondo paranormale Al mondo onirico Che poi vediamo In Sospiria Che poi vediamo In Fenomena Che poi vediamo In Inferno Ecco Fu Dario Nicolodi A portare Dario Argento Verso Quel mondo là Questo ci dice Dario Nicolodi In diverse Interviste E anche Sulle Tre Madri Anche Sulle Tre Madri Daria Rivendica Diciamo In qualche modo La La maternità Della storia Sulle Tre Madri Mater Tenebrarum Sospiriorum E Lacrimarum Tant'è Che sulla Terza Madri Ma poi ci ritorneremo Lei Non è Molto Molto Contenta del film Ha fatto quella Piccola parte Si è anche divertita A farlo Dice Sulla Terza Madri Che ci sono alcune scene Che sono uscite bene Però lei Ancora Le ultime interviste Che aveva dato Dice Sono solo io Che so il finale Delle Tre Madri Che non è mai stato fatto Non è mai stato compiuto Solo io Che ho creato No? La La saga Sulle Diciamo Sulle Tre Madri No? La trilogia Che per lei Comunque non è stata mai completata Dice Solo io So il finale Delle Tre Madri Quindi in qualche modo Non ha Completamente Riconosciuto Il terzo film Dove lei Peraltro Non è stata Molto In qualche modo Presa in considerazione Anzi Per niente Per nulla Questo è veramente Un peccato Quindi questa è un'altra Cosa Che voi Dovete sapere Io vi leggo Ovviamente Per non sbagliare Un po' chi era Daria Daria è andata a Firenze La sua amata è Firenze Voi dovete sapere questo Allora Io sono entrato in contatto Con Daria Nicolodi Qualche mese fa Diversi mesi fa Da quando io Apri Ore d'orrore Su Twitter Lei era Lei frequentava molto Twitter Lei era amante Di Twitter Lei diceva sempre No no Non pubblico Io pubblico poco Su Facebook Non mi piace quel social Ma a me piace molto di più Twitter Lei era Pubblicava quadri Fatti anche da lei Pitture fatte anche da lei Fiori Era amante dell'arte In fondo Una che viene da Firenze Che nasce a Firenze Una fiorentina Non può non amare l'arte L'arte Un po' come poi tutti noi italiani Ce l'abbiamo nel sangue Ecco Lei Daria amava l'arte Daria amava l'arte In tutti i suoi aspetti E lei pubblicava tutto ciò Lei pubblicava anche Più di 10 post al giorno Su Twitter E io Noi Oro d'orrore Più di una volta Abbiamo fatto Dei post In suo onore La taggavamo E lei È stata sempre Sempre Umile Con noi Ci rituitava Rituitava I post E ci metteva Il cuore E Andando avanti Abbiamo iniziato Ad avere un dialogo Un rapporto Quindi ci siamo anche Cominciati a parlare In privato Non più pubblicamente Ma in privato Su Twitter E devo dire che Era di un'umiltà Magica Era veramente Di un'umiltà magica Un po' come La magia È stata sempre Un po' il perno Della sua vita No? E Uno dei suoi Una delle ultime volte Che ci siamo insentiti È stata proprio Qualche tempo prima Che lei non pubblicasse più Su Twitter E da lì Anche la mia sensazione Che C'era qualcosa Che non andava Perché lei pubblicava Tutti i giorni Ebbene Una volta Noi abbiamo dedicato Un post Pochi giorni prima Che lei non pubblicasse più Su Twitter Lei lo ha Rituitato Noi abbiamo detto Che gli volevamo bene Lei Che non lo diceva a tutti Ha detto Anch'io Ma questa è stata Quella pubblica Ma anche in privato Dare ha sempre dimostrato Di essere una grande donna Di stile Eleganza Veramente è stata una donna straordinaria E io non potrò mai dimenticare Le cose che ci siamo dette in privato Che non è Non si possono dire qui Non è nemmeno giusto Che devono rimanere solamente mie Però vi posso dire Che Dare a Nicolodi Manca tanto Io ripeto Non potrò mai dimenticare L'ultima volta Che ci siamo sentiti A fine agosto In privato Dove ci siamo dette Ti voglio bene Quindi questa È una cosa che io Mi porterò Sempre dietro Di Daria Lei appunto Che amava l'arte In tutti i sospetti Non solo il cinema Ma proprio l'arte La pittura L'era nata a Firenze Pensate Qui lo leggo Perché non voglio assolutamente Sbagliarmi Lei aveva Un padre avvocato Che aveva partecipato Alla resistenza Tra l'altro Pochi sanno Che il padre Era figlio Di Aurelio Nicolodi Che è stato fondatore Dell'Unione Italiana Ciechi Io l'ho saputo Veramente pochissimo Tempo fa Quindi pensate Un po' Daria Da che famiglia viene Già Già da questo Potete capire Chi era Daria Nicolodi La madre Era la figlia Invece del compositore Alfredo Casella E guardate Che questa È una cosa molto importante Perché Daria Nicolodi È sempre andata Orgogliosa Di aver avuto Parenti Che avevano A che fare Che erano musicisti Che avevano a che fare Con la musica Perché Lei stessa ha detto Rivendica Anche qua La maternità Di aver scelto I Goblin A Daria Argento Proprio perché Un giorno Poco prima Che iniziassero Ovviamente Le riprese Di Profondo Rosso Che si stava Giustamente scegliendo Chi dovesse fare la musica Daria Nicolodi Sentì La stessa Dice Questa musica Che sembrava Un vento elettronico E questa musica Che aveva Un vento elettronico Come lei Chiamava Era proprio Quello dei Goblin Daria Nicolodi Fu così colpita Da questa Musica particolare Che andò da Dario A dirgli Naturalmente Che c'erano Questi ragazzi Questo gruppo Che faceva Questa musica Particolare E questo E Dario Scelse Appunto I Goblin Su consiglio Questo lo dice Daria Nicolodi In molte interviste Su consiglio Proprio di Daria E quindi Lei rivendica Assolutamente La maternità Dei Goblin Come poco fa Ho ricordato Che rivendica Quello che poi Dario ha fatto Cioè nel senso Che dai film Thriller E passato All'esoterico Alle streghe Grazie a Daria Che aveva letto Diversi libri In materia Sulle tre matri Sulla triade Ma su tanti altri Diciamo Racconti Fu Daria stessa Anche a consigliare A Dario Alcune città Magiche In qualche modo Da dove andare Dove cercare Di rifucillarsi Di idee Per poi creare Quello che è stato Sospiria Quello che è stato Inferno Quindi questo È importante Perché vi dico questo Perché è importante Dire che Daria Nicolodi È stata Sia attrice Ma anche Molto autrice Molto autrice E molto sceneggiatrice Dovete sapere anche Ad esempio Per quanto riguarda Il film Inferno Dove lei Viene aggredita Dai gatti Ecco Quella È una scena Dove In un certo momento È stata usata Una controfigura E nel momento In cui è stata usata La controfigura Bene Era lei La regista Era lei Che ha ripreso Quella Quella sua scena Quella sua scena Dove Fu messo un vetro Che separava Lei dai gatti E si vedono Questi gatti Che ovviamente La zanano Vanno verso di lei In qualche modo Bene Quella scena Fu ripresa Proprio Da lei Quando si vede Diciamo la controfigura Questa è un'altra Chicca di Daria E poi ancora Un'altra Un'altra notizia Sempre su Per quanto riguarda Inferno Voi dovete sapere Che Daria Nicolodi Fece anche L'ultimo L'ultimo film Di Mario Bava Nel 1977 Dal titolo Shock Un film che lei Ha amato fortemente Ma lei era molto amica Di Mario Bava Lei amava fortemente Mario Bava Tant'è Non so se voi Sapete tutto questo Tant'è che Daria Nicolodi Chiese A Mario Bava Di intervenire Per alcune scene Del film Inferno Di Daria Argento E Mario Bava Per l'amicizia Per l'amore Che aveva Verso Daria Nicolodi Accettò E quindi c'è Quella scena Che voi vedete Dove poi C'è uno Uno dei personaggi Di inferno Che muore Sullo sfondo Di New York Dentro l'acqua Mangiato dai topi Ecco Quella scena Che voi vedete Inizialmente Con la luna piena Quella specie di quadro In qualche modo Che si vede È stato fatto Proprio da Mario Bava E anche la scena Finale Dove la morte Spacca il vetro Quella è una scena In qualche modo Creata Da Mario Bava Tutto questo Grazie All'intuizione Di Di Daria Che ha chiesto a Mario Bava Di aiutare In qualche modo Daria Argento Non che Daria Argento Non fosse capace Naturalmente Però Daria ha sempre detto Ho amato Sempre più Mario Bava Di Daria Argento Perché Daria A volte Quando faceva Era molto sadico Quando faceva le prove Quando faceva le riprese Con gli attori Per farli spaventare di più Per farli Usava Diciamo Uno stile Un po' aggressivo Mentre Mario Bava Era completamente L'opposto Lui Era molto più Di sani principi Quando si facevano le prove Quindi era molto più dolce Molto più soave E questo stile Di Mario Bava A Daria piaceva molto E molto spesso Ho detto questa cosa qua A Daria Dove diceva Sì Daria è un grandissimo regista Ma lo stile Ma lo stile di Mario Bava Era imbattibile Faceva sentire gli attori Senza giochi di forza Senza prove di forze Quando si faceva il film E quindi Era molto Era molto grata A Mario Bava E pensate a Mario Bava Per amore di Daria Nicolodi Di questa stretta amicizia Aiutò appunto Daria Argento A fare due scene Di inferno Questo è quanto Per quanto riguarda Delle piccole curiosità Io intanto Leggo alcuni Dei vostri commenti Vediamo un po' Intanto Saluto tutti Saluto Steve Saluto Superotto Quest'anno è proprio L'anno di M E sono morti Già quattro artisti Che sono rimasti In i nostri cuori Ci dice Sam La mente di Suspiria Esattamente Esattamente Tra l'altro Un'altra curiosità di Suspiria La protagonista Doveva essere lei Poi Per alcune cose Non lo è più stata E anche Sulla scelta Della protagonista Daria dice Che è stata Fondamentalmente Lei in qualche modo A scegliere Per questi occhi Che no Ricordavano Un personaggio Fumettistico Quindi La scelta insieme A Dario Ma è stata Anch'essa Lei A inquadrare Diciamo La protagonista Principale Di Suspiria Senza di lei Le tre madri Non sarebbero esistite Daria amava Il mondo delle streghe Assolutamente Sì Lo stiamo raccontando È lei Che ha portato Dario Nel mondo Diciamo Più fantastico Più da Biancaneve Horror E poi Lo ha Trasportato Negli inferi Nell'inferno Quello Più fantastico Possibile Dove addirittura Si anima la morte L'horror Non sarebbe horror Senza pura Però ultimamente Si punta sempre Sui jumpscare Saludiamo Vediamo Vediamo un po' Un mese fa Vi di per la prima volta Shock Daria è per me La nostra scream queen Assolutamente Lo puoi dire forte La scena delle scale In operazioni paura È la migliore visione Di sempre Tani non vorrei Che ti incazzassi Ma io Daria Onestamente Non la conoscevo Sì mi piace l'horror Ma film di Argento Mai visto Ecco Devi assolutamente Rivederti Tutta la filmografia Di Daria Fatta da lei E comunque Lo possiamo dire In maniera certa Tutti i film di Daria Argento In tutti i film di Daria Argento Da Quando ovviamente Si è conosciuto Con Daria Sono Assolutamente C'è l'anima di Daria C'è l'anima di Daria La potete trovare In inferno La potete trovare In fenomena Lei Questo amore Spassionato per i gatti Questo amore Spassionato per gli animali E' stata fondamentale Anche Per fenomena E poi ancora I goblin Dove ripeto Lei rivendica la maternità Dei goblin In qualche modo Di averli trovati Lei E poi ancora Anche Anche Diciamo Suspire Suspire è proprio La sua creatura principale Da Suspire Che è partito Diciamo Il nuovo corso Sperimentale Horror Di Di Daria Argento Grazie Lo ripetiamo Ancora una volta A Daria Sono sconvolta Ci dice Isa Tra l'altro Ringrazio Isabel Perché insieme Abbiamo parlato Questa sera Dovevamo parlare Di Wes Craven Con Alberto Bogo Poi Alberto Bogo È stato influenzato Aveva una diretta Su Isabel Dovevamo parlare Di Netflix Di Amazon Prime Come è cambiata Come è cambiata Diciamo La fruibilità Dei film E delle serie TV Quindi parlavamo Di Netflix Avremmo dovuto parlare Di Netflix Cinema È arrivata Questa tremenda notizia E insieme abbiamo deciso Di dedicarla Naturalmente Alla morte Di Daria Il film più bello Profondo Rosso Di Daria Sia Mario Che Dario Hanno utilizzato Al meglio In modi diversi Il grande talento Di Daria Assolutamente Sono orgoglioso Di avere quasi tutti i film Girati con Argento Bava Luigi Cozzi Mi ha fatto compagnia Fin da bambino Ci dice Steve Rising Ci dice Abbiamo perso Una grande Che ci ha accompagnato Per molti anni Nella nostra vita Da piccolo Quanto mi faceva Paura In fenomena Eh sì Eh sì Lo potete dire È forte Io Tra l'altro Voglio anche Farvi vedere Alcune foto Questa è la foto Ripresa Dal film Naturalmente Quello Quello più famoso Quello che tutti Conoscete Stiamo parlando Naturalmente Di Profondo Rosso Questa è un'altra È un'altra Immagine Eccola qua Dove non faceva parte Qui ovviamente Il film di Daria Argento E poi qua Eccola qua Qui naturalmente È Ad Inferno Ecco E c'è anche un'altra curiosità Che riguarda Inferno Pensate che Daria Amava Fortemente Il personaggio Di Eloise Pensate che Daria Ha detto Era uno Dei miei personaggi Preferiti Anzi forse Il mio personaggio Preferito E Dava fastidio A Daria In qualche modo Fastidio Insomma Dice Tutti l'hanno sempre Chiamata Elisa Ma questa era Una donna Aristocratica Francese Che si chiamava Eloise Adesso tra l'altro Non ricordo Come si chiamava Cioè come era il cognome Era un cognome molto lungo Francese E lei Amava moltissimo Questo personaggio Addirittura Quando Eloise Che poi tra l'altro Nel film Farò una brutta fine Ma Eloise Parlava E raccontava C'è una piccola scena In cui lei racconta Naturalmente Delle tre madri Di Mater Tenebrarum Mater Sospiriorum E Mater L'ho detto L'ho detto tutti e tre Lacrimarum Sospiriorum E Vabbè insomma Avete capito Le tre madri Tenebrarum Sospiriorum E Lacrimarum Le dico tutte e tre Perché se no Non andrò avanti Mi sono impappinata Ma oggi mi capirete Perché sono molto Sono molto Insomma Molto spaisata E Lei Ha detto Che questo è stato Il suo personaggio preferito E ha detto Basta Non si chiama Elisa Ma Eloise Donna francese Quindi Questa è la Questa è Appunto Ecco perché vi faccio vedere Questa bellissima immagine Guardate quanto era bella Guardate quanto era bella E poi Si parla della Scream Queen Eccola qua E' lei la Scream Queen Lei è andata sempre orgogliosa Di aver fatto tutto Ha fatto l'assassina Ha fatto la superstite Ha fatto Quella che viene uccisa Ha fatto veramente Tutti i ruoli Può essere contenta Ha fatto veramente tutto In questo caso Alla fine La spunta lei E quindi Questo film Che tra l'altro Lei Non era comunque Tra i suoi preferiti Perché comunque Tenebre Non è un film suo Lei Dice Questo è l'unico È uno dei pochi film Che io Fino a quando sono stata Con Dario A cui ho fatto l'attrice Ma non ho fatto nient'altro Quindi non è mio E quindi ovviamente Non poteva essere legata Al cuore A questo film Come tanti altri Però vogliamo dire Che è stata un'interpretazione Veramente Straordinaria Quella in Tenebre Ecco Sarebbe bello il caso Che quando finirà Questa diretta Ci andiamo a vedere Tutti quanti Da Profondo Rosso A Tenebre Ad Inferno Io sicuramente Questa sera Uno di questi Lo vorrò Di sicuro Rivedere Per la centocinquantesima volta Proprio per Ricordare Daria Il personaggio di Daria Ci dicono In Profondo Rosso Intrigante E molto divertente Di certo Non aiuta A mettere questa foto Di Daria Che urla In questo momento Di tristezza E invece No Invece Aiuta Perché Facciamo capire Quanto È stata grande Un artista Di questo calibro In tutto ciò Che ha fatto Dalla persona Disperata All'assassina Come Insomma È successo In Fenomena Insomma Assolutamente Daria Oggi è proprio L'omaggio L'omaggio professionale Per Daria Nicolodi Sospire Il regista James Robertson Si ispirò Con Superstition Superstition Una donna Attraente Con moltissimo Carattere Assolutamente Ci sta Lei era un'attrice Ci dice Senti prego Stiamo Esattando il lavoro Di una grande artista Sono d'accordo Invece Aiuta Perché rappresenti Il lavoro Il suo lavoro No Assolutamente Assolutamente Oggi Va ricordata Va ricordata In tutta la sua vitalità In tutto il suo splendore In tutto quello che ci ha lasciato Perché queste sono Immagini di scene Che ci lascerà a vita L'ho detto oggi Una grande artista Lo si dice sempre Non morirà mai Un grande attore Un grande artista Un grande calciatore Ieri abbiamo perso Diego Armando Maradona Non moriranno mai Perché ci hanno lasciato Le loro gesta Ci hanno lasciato La loro arte Ci hanno lasciato tutto E andiamo avanti Eccola qua In Fenomena Dove lei Ha dato Ha fatto Diciamo La parte David Lane La parte cattiva Ecco Anche qua Anche in Fenomena Lei è stata Praticamente Impeccabile In tutto E per tutto Lei era un'artista Va ricordata in tutto Ci dice prima Sarà sempre Impressa Delle pellicole A cui Ha preso parte Assolutamente Assolutamente Poi la vediamo In un altro Film Eccola qua In Delirium In realtà Le foto di Gioia Ma è conosciuto Anche come Delirium Di Lamberto Bava Questo film Anche a me è piaciuto Moltissimo Tra l'altro L'hanno rifatto Proprio Ieri o l'altro ieri Adesso non ricordo L'hanno rifatto Pochi giorni fa O ieri o l'altro ieri Perché Ho rivisto La seconda parte Del film Un film Che certo Non sarà Uno dei migliori Di Lamberto Sicuramente Però è da vedere Perché lei anche qui È stata impeccabile Credo che era L'epoca Adesso non ricordo male Era proprio l'anno di opera Perché lei aveva Era bionda Con lo stesso caschetto Credo che era Che fosse il 1987 E quindi questo E lei ha fatto anche Diversi altri film Intanto parlando di opera Vi faccio vedere Non so se si vede Questa è Un dietro le quinte Della scena Dove viene Sparata Nel bulbo Oculare Questa foto Lei è molto affezionata La pubblicata Lei stessa Pensate Su Twitter Tempo fa E dove ha detto Che veramente Quando è stato esploso Il colpo Si fecero male Dario E credo Un'assistente Alla regia E lei La scampò Per poco Ovviamente Non successe Niente di che Ma Praticamente Andarono vicino All'incidente Non diplomatico Poco incidente E quindi Lei ricorda Molto 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 Bene Questa Questa foto E soprattutto Quello che capitò Praticamente Per Girare la scena Era brevissima E convincente In tutti i ruoli Non lo dico Per fare ruffiano Assolutamente Steve Non c'è C'è poco da dire Sulla Sulla sua bravura La sua apparizione Nella terza madre È brevissima Però Intensa Esatto E Chissà se un giorno Non completeremo Veramente la trilogia Perché sono d'accordo Con Daria Che solo lei Sapeva Il finale Solo lei Che aveva creato Questa trilogia Sapeva come Doveva finire E quindi Speriamo che un giorno Qualcuno Metta mano In qualche modo A ciò Che era Il suo Il suo desiderio Perché era un desiderio Allora questa è La foto che Vediamo un po' Se si vede bene Guardate Dario Con La magliettina azzurra Che appunto Si è fatto male Guardate Ha il braccio fasciato Perché capitò L'incidente Dario e Nicolodi Al centro Con Il buco Nell'occhio E L'altra persona Che se vedete Sulla mano Ha È È fasciato E È bello Perché veramente Ha raccontato Dario a questo episodio Poi È bene Tutto quello Che è finito bene Ma questo incidente Lo raccontò E E Ritemo Anche molto Quando in privato Io gli scrissi E mi raccontò Esattamente Come era Andata Ragazzi Oggi faccio Veramente Fatica A parlare E Guardate Guardate Questo è un altro Dei film Di Dario e Nicolodi Dovete sapere Che È Ricciato anche In Paganini Horror Del 1989 Nel ruolo Della protagonista Principale Esattamente Esattamente E guarda Che ti stiamo Proprio Facendo vedere Tutto ciò Che riguarda Anche la filmografia Che non è Infatti Di Dario Argento Lei è partipensata Nel 70 Con un film Di Francesco Rosi Uomini Contro Poi partecipò Nel 72 A Salome Di Carmelo Bene Poi sempre L'anno dopo Credo Nel 73 Fece Con la regia Di Elio Petri Partecipò Al film La proprietà Non è più Un furto E poi Partì La sua carriera Sotto braccio Di Dario Argento In tutto e per tutto Non solo A livello artistico Quindi Profondo Rosso Sospiria Inferno In mezzo a questo Abbiamo ricordato Shock di Mario Bava Nel 77 E poi Fece un film Con Sergio Citti Nel 81 Che si chiamava Il Minestrone Quindi Sto dicendo anche film Che non avevano nulla A che vedere Con l'horror O il thriller E poi Ha continuato Con Tenebre Fenomena E anche qui In questo caso Tra Fenomena Le foto di gioia E opera Fece Maccheroni Con il grande Ettore Scola Un altro grandissimo Regista Poi Ne ha fatti Insomma Altri Ecco adesso Leggo anche Sinband Of The Seven Seas Di Castellari Poi Appunto Con Luigi Cozzi Paganini Horror Che abbiamo È stato appena scritto E poi La Setta E un film Poco Poco Che vi consiglio Tutti È un giallo È la regia Di Cristina Comincini Figlia del grande Comincini Ed è La fine è nota Io l'ho visto Guardate Perché è un film Anche lì Dove Daria Dà Secondo me Il meglio di sé Vi consiglio La fine è nota E poi Ha partecipato Naturalmente Ai film Della figlia Da Viola Baciatutti Di Giovanni Veronetti Nel 98 A Scarlett Diva Proprio con la regia Addirittura di Sergento Precisamente Proprio Vent'anni fa Pensate Sembra ieri Vent'anni fa Proprio E poi ha fatto Rosa e Cornelia Con Giorgio Treves Poco Poco prima Aveva fatto Pochi anni prima Aveva fatto La parola Amore esiste Di Mimmo Calopresti Un da cortometraggio Che si chiama Soleato Che Però questo Non ho visto Di Greg Guinte E poi Il suo ultimo film La sua ultima opera Almeno a livello cinematografico La terza madre Appunto Dove abbiamo Però abbiamo parlato prima Che lei Non ama molto Questo Questo film Lei non è stata Ripeto Assolutamente Presa in considerazione Lei Continua a ripetere Questa è una cosa Molto importante Lei continua a ripetere Che il finale Delle tre matri Lo sa Solo lei Solo lei sa Come va a finire Quindi si spera Veramente che un giorno Chissà O per le mani Di Dario Per le mani Di qualche Altro Diciamo Regista Fare Un nuovo capitolo Senza criticare La terza madre Secondo me Conclusivo E con l'idea Originale Di Daria Nicolodi Grande coraggio A mettersi in gioco Con Asia In film Doloresamente Autobiografici Ci dice Alberto Assolutamente Alberto Lei è stata Sempre molto Coraggiosa E ha sempre appoggiato Tutta la sua famiglia In questo caso Anche la figlia Lei andava molto Andava molto Fiera di Asia Forse per me Al funerale di Dario Andrebbe suonato Un pezzo Dei suoi film Ci dicono Interprete di grandi Sceneggiati Con Brezza Con Castelnuovo Ci dice Isabel Un'attrice completa Capace di recitare In tutti i generi Giusto considerare Tutta la sua carriera Brava Tania Assolutamente Assolutamente Oggi dobbiamo festeggiarla Così in qualche modo Sì voglio dire Proprio festeggiarla Speriamo che da qualche parte Abbia lasciato scritto Come voleva finire La trilogia Almeno sarà completata Con l'idea originale Credo che lei Abbia scritto Lei abbia 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 qualcosa Abbia qualcosa Assolutamente Recitò anche In Paganini Horror dell'89 Neuro Horror Sì questo l'abbiamo letto Speriamo che Dario stesso Possa rifare il finale Di la trilogia Veramente speriamo Perché era Secondo me Questo a mio parere Era veramente Un desiderio di Daria Mettere mano Ad una cosa Che Non viene assolutamente Rappresentata Dalla terza madre Guardate Daria Ci teneva molto a dire Io ho creato Due film laici Suspiri ed inferno Sono due film laici Ciò che non è piaciuto A Daria Nicolodi Lo ha detto lei Più volte È stato il fatto che Nella terza madre Ci sono i predi Entra Di prepotenza La religione E Daria Nicolodi Ha sempre detto Non è Quello Il finale Il mio film Sulla terza madre Su quello che doveva Concludere la trilogia Era un film Laico Non religioso E la terza madre È un film religioso Fatto di chiesa Dove si vedono Di preti E quindi È per questo Che Daria dice No assolutamente La terza madre Non può essere Vista come Secondo lei Parte finale Di Di un'opera Nonostante poi Avesse elogiato Alcune scene Nonostante si fosse Divertita a fare Quella Diciamo Piccola parte Che la vedete Diciamo Con un'aurea Di luce Intorno Naturalmente Quindi Magari le tre madre Sono iconiche Mitologiche È esatto Speriamo che Dario Stesso possa rifare Adesso Vi faccio vedere In grande Anche Ecco qui Questa è la scena È una delle immagini Della fine nota Di Cristina Comincini Ve l'ho consigliato prima Ve lo consiglio Ancora Adesso E E qua Ecco qua Io oggi Questo l'ho preso Da Twitter L'ho preso da Twitter Dove lei dice Che immaginava No Una musica diversa Per Profondo Rosso Qui non si legge bene Ma scelse I Goblin Perché Appunto Gli ricordava Questo vento elettronico Pensate E quindi È stata ricordata Molti riportano Questa frase E allora Poi ecco qua Innanzitutto Questa ve la faccio vedere Dopo Questa foto qua E vi dico Perché Dario C'era molto legata Qui vedete Una Dario Nicolodi Guardate un po' Con il grande Gigi Proietti Ebbene sì Con il grande Gigi Proietti In una In uno show Del 1970 Dico adesso Non ricordo Il Giame il titolo Pensate Guardate un po' Sono scomparse Una a poca distanza Dell'altro Una a poca distanza Dario Nicolodi E Gigi Proietti Eh A volte Diciamo la sorte E Guardate Queste curiosità Che vi sto dando Non le sanno tutti Perché lei si confidava Molto spesso Con il popolo di Twitter Twitter ripeto Social Che lei tanto amava E Alcune curiosità Sono veramente Molto rare Quindi Ecco qua Tra l'altro Un'altra curiosità Che mi viene in mente Adesso Lei stessa Ha dato le foto Di Asia Argento Da piccola Per il film Delle tre madri Le ha concesse lei Pensate Le ha concesse lei Ok Quindi Daria Era molto contenta Di aver concesso Le foto di quando Asia Argento Era piccola Per il film Delle tre madri Con il suo permesso Guardate Questa è Una bellissima copertina Di tifusori Se canzoni Dove si ricorda La donna velata Ritratto di donna velata Una serie tv In cinque episodi Del 1975 Uno dei suoi Più grandi successi Pensate Una Una È uno scendiciato Che io veramente Consiglio a tutti Per conoscere anche meglio Le doti recitative Di Daria Nicolodi E considerate che Lei aveva partecipato Già tre anni prima Ad una serie tv Che si chiamava Che si chiamava Inicotera Poi fece il ritratto Di una donna velata E poi ne ha fatte tante Nel 77 Saturnino Farandola I giochi del diavolo Fece un film tv Nel 79 Tre ore dopo la mezzanotte Rosaura alle 10 E poi fece Leggo per non sbagliarmi Verdi I nuovi episodi Nel 82 Sogni e bisogni Turno di notte Che amante dell'horror Non può non aver visto Turno di notte La serie tv Del 1987 Il gioco Una serenita innamorata Ha fatto un episodio Anche dell'ispettore Coliandri Un episodio Del mostro di Firenze Nel 2009 Questa è stata La sua ultima Diciamo apparizione In senso generico Vediamo un po' Che ci dite Che bella Questa foto Grazie Alberto Gigi maestro Di teatro E di cinema Per me Era molto misterioso Negli occhi Aveva un taglio Di occhi Ragazzi Straordinario Quindi questo Adesso vi voglio Anche far vedere Guardate Questa è una foto Che ha pubblicato Samuele Bersani Proprio oggi Per ricordare Nadia Eh sì Daria Nicolodi La ricordate Perché Samuele scappò di casa A 14 anni Non si sa Per quale motivo E l'incontro Con Daria Lo fece riflettere E lo fece E lo riportò Sulla retta via È un Bellissimo racconto Che potete trovare In questo momento Su Instagram Andando proprio Sull'account Di Samuele Bersani Dove ha ricordato L'amore Musicale Che Daria Nicolodi Aveva per Samuele Ma ancora prima Samuele Come me Aveva come musa Daria Nicolodi Ma in questo caso Non solo per le sue doti Di grande attrice Ma anche perché È stata È stata molto importante Per questa piccola Parte di vita Quindi grande Samuele Io e Daria Abbiamo Un punto in comune E parlo ancora Nel presente L'amore Per questo Grande cantante Tiorno di notte Me lo appunto Assolutamente Rising Da vedere Che dolce Che sei Come la racconti Grazie Grazie Crimao Questo Io Sto andando avanti Così ragazzi Un po' E adesso Guardate Vi faccio vedere Questa foto Allora Voi dovete sapere Questo è un ritratto Purtroppo non mi ricordo L'artista Questo è un ritratto È un ritratto Che lei amava tanto Un ritratto Che lei più spesso Ha pubblicato Più volte Ha pubblicato Su Twitter E Ha Ha giudicato Questo ritratto Come Il La miglior foto Che la potesse Rappresentare Ecco Questa Questo ritratto Era Il ritratto Ma la foto In generale Che Daria Amava Di più Al mondo Ci scherziamo Anche Su Quest'immagine Io e lei Ed è bellissimo Guardate lo sguardo Di questo ritratto Quasi A fissare Un punto preciso Quasi anche Un po' Malinconico Quindi Su questo Lei meglio di ragione Questo è stato Veramente Questo è uno Di ritratto Ed è bellissimo Effettivamente Anzi vi devo dire La verità Che inizialmente Non l'avevo apprezzato Poi invece Riguarda il Norben Secondo me La rappresenta Proprio nella sua Essenza Era bellissima Ed enigmatica Mamma mia Che bello Addio Dario A compagni Di pomeriggi Infiniti I miei Del mio amato Fratello Norman Mi mancherai Oggi per me Un giorno Da lutto Bellissimo Ritratto Affascinante Elegante Ed enigmatica Che bellezza La contessa Si chiama Elisa Delon Valadier Sì Elise Perché lei amava molto Appunto Che venisse nominata Elise In quanto era Un'aristocratica Francese Lo ha Lo ha detto Svariate volte E Questo Questo era Era Daria Allora Pensate che Con Gigi Proietti Anche nel 78 Fattrice teatrale Per la commedia Che si chiama La commedia Di Gaeta Naccio Lo spettacolo Debutto al teatro Sistina Ma venne soppresso Poco dopo A causa Di contenuti Troppo esplici Scandalosi Che riguardavano L'epoca religiosa E papalina Del quindicesimo secolo Pensate Anche se questa foto Credo invece Che sia di uno spettacolo Del 1970 Quindi di Qualcennetto prima Se non ricordo male La sua relazione Con Dario Che è stato Uno dei suoi grandi amori Forse l'unico Grande amore Della sua vita Mi viene da dire Terminò Nell'85 E lei partecipò A qualche film thriller Horror Appunto Che abbiamo detto Sfruttando ovviamente La sua aura Aura di Dark Lady Del cinema di genere E poi Fece anche comunque Molti film di autore Che vi ho appena detto Ad esempio La fine è in nota Che vi riconsiglio Per l'inizio Molta di vedere Nel 94 Lo sappiamo tutti Non so Ecco Morì La sua primogenita Anna In seguito Ad un incidente Stradale E questo Cambiò radicalmente La sua vita Cioè il fatto Che lei non si presentasse Più Per fare Diversi film Era perché In parte Era per la perdita Della figlia Lei rimase Molto colpita Dalla perdita Della figlia Questo Lo sanno in pochi Ma Daria Fu veramente Toccata fino in fondo Dalla perdita Di Anna Perdita che Ancora oggi Asia Ogni volta che c'è L'anniversario Della morte Della sorella Ricordi in maniera Molto forte Questo Io non so Che altro dirvi Le ultime apparizioni Che le potete vedere Le potete trovare Anche su Youtube Perché lei ha fatto Anche È stata ospite Due volte Credo Di Stracult E Guardatevi Queste partecipazioni Perché lei Dirà Molte cose Interessanti Proprio riguardo Ai Goblin A A come ha portato Dere Argento A lasciare In qualche modo Da parte Il thriller Nel 70 Per dedicarsi Alla magia All'horror Quindi questa È una cosa Molto importante Assolutamente Andate a vedere Le due puntate Di Stracult E poi c'è anche Un altro video Che non fa parte Di Stracult Su Youtube Molto interessante Dove lei racconta Due notti Nel carcere Di Regina Celi Poi furono assolti Perché si trattava Solamente di consumo Personale In realtà E non stavano Spacciando Quindi questi Non so se Qualcuno si ricorda I vecchi come me Sì Ma io mi ricordo Dal telegiornale Che si parlò Di questo Insomma Di questo Arresto Insomma Che cosa dire Di Daria Daria era Un'attrice Unica Grandiosa Appunto Che aveva avuto Successo Il suo successo Già lo aveva ottenuto Prima Di conoscere Dario Prima Di lavorare Con Dario Quindi È brutto Anche sentire Cioè Ben è che è brutto Insomma Però è un po' Si sminuisce Secondo me La figura Quando si dice L'ex moglie L'ex compagna Di Daria Argento O Sì sì È la mamma di Asia No No Lei è stata È stata tutto Ripeto Non è stata solamente Attrice Ma è stata anche Autrice Sceneggiatrice E lo possiamo dire Forte Perché Daria Secondo me Lo diceva anche poco Spesso A parte quelle 4 5 interviste Ecco È stata L'anima Del progetto Delle tre madri Ma è stata anche Quella che ha portato Daria Argento A spostarsi Di genere Pochi Credevano Che in Italia Avrebbe funzionato Quella Quella cinematografia Sospiria Inferno E in effetti Daria ha detto Inferno Quando si Non andò Molto bene Ma Fu un film Che fu rivalutato Molto Nel corso Degli anni Quindi Lei era Contenta Comunque Perché Lei ha sempre Detto L'arte Il cinema E anche La rivalutazione Di un prodotto E quindi Era molto Contenta Che specialmente Inferno Fu rivalutato Molto dopo Lei chiaramente Ha detto È vero In Italia Funzionava poco Funzionava più Un film come Profondo Rosso Che Suspiria Ma pensate Che Profondo Rosso Arrivò in Giappone Lei questa volta Questo caso L'ha ricordato In maniera Molto netta Che Suspiria Venne presentato In Giappone Come Scusate Profondo Rosso Venne presentato Come Suspiria Parte seconda Pensate Quanto era Stato fenomenale Il successo Di Suspiria Perché Profondo Rosso Uscì prima Di Suspiria Ma in realtà In Giappone Arrivò dopo E fu intitolato Suspiria parte seconda Quindi Daria Nicolodi Era in qualche modo Più internazionale Usando una provocazione Di Dario Ci aveva visto Giusto Sì un prodotto Che forse in Italia Sarebbe andato bene Ma non così bene Come lo è stato Nel mondo E ci ha visto bene Oggi sappiamo Che cosa Cosa ha rappresentato Suspiria Cosa ha rappresentato Anche se un po' In parte minore Di Suspiria Inferno E cosa ha rappresentato Anche fenomena Che non fa parte Ovviamente della trilogia Delle tre matri Ma insomma È stato Altrettanto Importante Quindi a Daria Noi dobbiamo questo E altro Leggo un po' Dei vostri commenti L'artista si chiama Stefano Babini Sì Marcus Ricordiamo anche Proietti Assolutamente L'abbiamo ricordato Proprio perché Ha lavorato Tra l'altro Con Daria Racconta L'episodio Della scena Di Profondo Rosso Rifatta più volte Perché Daria L'ammirava Mentre si muoveva Sì sì L'ho già detto Isa L'ammirava Questo è uscito dopo Che l'ammirava Quello che Daria Anche pensa Però ovviamente La spiegazione Lo ripeto Perché si fosse messo In contatto da poco Che la famosa scena Di Daria Nicolotti Che esce E dice Ho detto Che tipo di movimento Questo movimento qua Dario Argento Gliela fece ripetere 17 volte Perché Si diceva Che Daria Nicolotti Era una Che se la tirava Che faceva La grandiva Proprio perché Aveva fatto Già dei grandi lavori Prima con Grandissimi artisti E quindi Dario L'ha fatta Un po' Tenere sulle spine Gli ha fatto ripetere Pensate Queste due battute Le ha fatte ripetere Ripetere 17 volte Mandandola in difficoltà Daria ha detto Ero in piena difficoltà Perché due battute Me le ha fatte ripetere 17 volte Poi dopo Daria Pensava che c'era Ovviamente anche altro sotto Pensate Il suo rapporto Con Daria Argento Dice Lui mi faceva La corte Me la faceva Da tanto tempo Ma me la faceva In maniera così strana Che io non mi sono accorta Di niente Parlava Amore ore di cinema Di film Di ciò Che parlavamo oggi Ore e ore e ore Davanti A un piatto di questo A una biblioteca Ma io Non mi ero capacitata Che Daria Argento Parlandomi così Di cultura Di arte Mi stesse facendo la corte Quindi è stata Una lunga Attesa Per il nostro caro Daria Argento Far cadere Daria Tra le sue braccia Ma perché Daria Non se n'era proprio Completamente accorta Lei ricorda Ha ricordato Questa cosa Ricorda sempre Questo Giamo con un sorriso Racconta L'episodio Nascondeva la nostalgia Del suo passato Mi piace perché È un film sulle streghe Sia sospire che Profondo Rosso Sono due capolavori Sono prete delle donne Più forti di me Bellissimo Anche inferno Dalla sua risata Ghiacciante In fenomena Al suo urlo Straziante di tenebre Che in una certa maniera Li prende in opera Grandiosa Quella è una scena teatrale Come piace a me Parlare di horror Sapete un'altra curiosità La scena madre Del teatro iniziale Dove c'è la grande Masha Merill Che si dibatte Perché vede Sente l'assassino Erano state fatte Due versioni Pensate Una con presente Daria Nicolodi Ovviamente nella parte Della giornalista Gianna Brezzi Seduta nel teatro E una Che è quella ufficiale Dove lei Non compare Perché Perché ovviamente Il fatto che lei Comparisse Avrebbe potuto Destare qualche Sospetto In più Al pubblico Tant'è che noi Senza quella scena Abbiamo pensato Le prime volte Che l'abbiamo visto Le prime volte Che l'abbiamo visto Profondo Rosso Che Gianna Brezzi Potesse essere Una delle assassine Tant'è che Lei stessa dice Fino a quando Non mi hanno visto Con il coltello Ficcato in pancia Tutti potevano pensare Che ero io l'assassina Anche da come Da come avevo Da come avevo guardato David Emings Che era l'attore principale Dopo che la villa Era andata in fiamme E no Quello sguardo Che gli dà Daria Nicolodi Mentre lui Stava per terra Chi è che non l'ha pensato Credo quasi Quasi tutti Bene Queste due scene Quella con Daria Non è stata messa E quella che vedete È quella senza Daria Nicolodi Ma c'è una foto Che si vede Su Su un video Di youtube Dove c'è Anche Daria Nicolodi Seduta Ma quella scena Di quella scena Almeno per ora Rimane solamente Una foto Dove c'è lei Accanto Ad un'altra persona E Questo Io non so ragazzi Volete Mancano pochissimi minuti Io penso di Di Daria Di aver detto tutto Purtroppo Per me Ripeto È una diretta Che io non avrei Mai voluto fare Oggi Quando è arrivata La notizia Sono Lì per lì Sono stata anche Molto fredda Glaciale E dopo sono esplosa Ahimè Perché Daria Lo possiamo dire Era un'amica Di ore d'orrore Ci seguiva su twitter Ci commentava sempre Ci Ritwittava I post Ovviamente Soprattutto Quelli suoi Quando La omaggiavamo E Le parole belle Che ha speso Per me Per noi Su twitter Sono Assolutamente Indimenticabili Sono pubbliche Ma Amo Dire che Ci sono anche Quelle private Che ovviamente Terò sempre per me E che non racconterò Perché Voglio che questa cosa E voi mi capirete Rimanga solo mia Hai parlato con il cuore E con molta passione E d'ammirazione Per questa grande attrice Apprezzatissimo Mi hai ipnotizzato Grazie Alex Io Volevo chiudere Con questa Musica Con cui abbiamo Appena Iniziato Si parla di musica Io credo Io voglio Tagli non si può fare Non si Non si può Non fare una diretta Per ricordare Daria Assolutamente Assolutamente È stata una grande musa Una grande musa Grazie Daria Per aver sostenuto Questo momento E per non avermi fatto Fare una diretta Che sarebbe stata Senza Senza un sorriso Grazie Grazie Isabel Bellissimo modo Per ricordare Un bel momento Di condivisione Allora io Proprio per Chiudere Qua Voglio rimettere La foto che lei Tanto amava Questa è la foto Che lei Tanto amava E io vorrei Chiudere con questa Canzone Una Un pezzo che lei Sicuramente amava E quindi Voglio proprio Chiudere così Questi ultimi Tre minuti Li voglio Voglio sentire Tutta questa canzone Con voi E vorrei chiudere qua Senza parole Senza dire niente E vorrei chiudere Così Con Jennifer Dei Goblin Che lei tanto Aveva Cercato E trovato E dare Che dire Ti ricorderemo Sempre Per quello Che ci hai donato Per quello Che ci hai dato Credo Di poter dire Che secondo me Non è stata ricordata Abbastanza Oggi Nei vari Telegiornali Ho letto Solo il televideo E forse Solo un telegiornale Vi sfuggite Tra l'altro Quindi Io chiuderei così Con questa Musica Ciao D'aria Grazie di tutto E Sei splendida Che 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.